A Sanremo 2018 incontriamo anche Dariana Comanova, perdonami, dimmi che l'ho detto bene? L'hai detto benissimo, perfetta. Perché l'ho appena letto, ma resti tra noi. Anche senza occhiali ce l'hai fatta. Fantastico. Allora, è un personaggio particolare perché sei l'unica, dimmi se sbaglio ancora, direttrice d'orchestra donna che sale sul palco dell'Aristo in questo festival. Sì, quest'anno. Però nella storia di Sanremo ci sono quattro donne direttrici d'orchestra, 68 anni, la prima una polaca con Totto Cotunio, poi Mirò, Andrea Mirò e poi Federica Fornabaio, io sono la quarta. Raccontaci, immagino che sia il tuo sogno. Assolutamente sì, da piccola salire sul palco, però salire come direttrice mi piace ancora di più che come cantante o violinista, veramente, e la prima volta, la prima prova con l'orchestra stavo morendo di paura, perché ho detto tutti questi uomini mi ammazzano. Invece no, è andata bene e sono felice, ho preso ogni prova, prendevo sempre più coraggio e mi piaceva sempre di più comandare gli uomini. Diciamo che è un periodo in cui le donne stanno diventando un po' pericolose anche per gli uomini. Tu hai detto che suoni anche il violino, canti, cosa preferisci fare, come mai? Insomma, strano per una giovane, immagino che sia da bambina, avevi questo sogno di dirigere un'orchestra. Sì, l'ho studiata tanti anni, ho fatto vent'anni di conservatorio, poi un master con un maestro molto severo, Victor Meyer, grazie, un maestro di orchestra ebreo che ha diretto l'orchestra sinfonica di Louisiana, di Yucatana, la Berlinian, non li dico tutte, però severissimo, soprattutto lui dirige l'orchestra, cioè la musica classica, ha fatto Prokofiev, Shostakovich, e stare dietro di lui veramente è stata dura. Poi adesso ho fatto un full immersion prima di Sanremo, non ho visto né Natale né Capodanno, ho fatto 6, 7, 8 ore di direzione d'orchestra, avevo le spalle che non reggevano più, però è bellissimo, un'esperienza bellissima, sono veramente felice, non riesco a credere, e voglio ringraziare anche mia mamma, perché credo che c'è anche lei, lei è morta tre mesi fa esattamente, e il mio sogno si è verrato dopo, credo che c'è anche lei lassù che mi sta aiutando. Allora lo dedichiamo a tua madre, questo sogno che si realizza, ok? Grazie mamma, che dove sei? Non lo so, ma grazie. Grazie.